ok 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 fermi 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 perché qua si sta andando oltre io sono stato il primo il primo a criticarlo a non mettermi il prosciutto davanti agli occhi io sono stato il primo criticarlo dargli un bruttissimo voto condannare la giocata non tanto l'errore perché l'errore nel calcio ci può stare ma il tipo di giocata però signori e poi basta è quasi sta andando oltre finché si parla dell'allenatore del milan che può permetterselo di dire alcune cose di poter andare a criticare il calciatore magari anche in sede privata specialmente in sede privata farli capire magari anche compagni farli capire perché io sono convinto dopo le dichiarazioni che ho sentito di tomori che qualcuno nello spogliatoio gliel'avrà detto qualcosa vedi rafa non puoi fare una roba del genere ma signori da qui a iniziare a mettere in discussione il talento il calciatore rafa leao e allora non ci siamo e allora non avete capito nulla perché mo al prossimo gol di nuovo diventerà un top player e no non funziona così ragazzi ve l'ho spiegato bisogna criticare la prestazione bisogna criticare in questo caso la giocata non bisogna criticare il calciatore che poi non gliela devi far passare liscia perché poi ci sono quelli che ok tu puoi fare tutto quello che vuoi puoi anche pisciarci in testa no su questo no bisogna rispettare la maglia che stai indossando la competizione che stai giocando e soprattutto devi rispettare tutta la gente che sta lì a guardare la partita quelli che la stanno guardando da casa milioni di tifosi e soprattutto i tuoi compagni che si stanno spaccando il culo per cercare di vincere la partita e poi tu arrivi davanti al portiere e fai il tacco di sto gran minchia ma da qui a dire di nuovo maleao dove sei sei un balotelli che è che ovviamente balotelli è stato preso in caso perché lui fece quel tacco in allenamento amichevole che era lì e poi lo cacciarono fuori dalla partita non so se sarete lì ma però era lui praticamente da solo davanti al portiere che invece una roba ancora più imbarazzante di questa di leao però erano amichevole vabbè comunque e addirittura ho risentito di nuovo il nome di niang vi ricordate quando io dicevo questa cosa era all'inizio della carriera di leao quando leao doveva ancora dimostrare di essere un top player in cui dicevo leao tu sei su un filo sottile puoi diventare un campione o puoi diventare un niang cioè niang che cos'è un giocatore con grandi potenzialità che però non sono mai state espresse sia per colpa della testa perché non ci stava con la testa niang e in più perché non è riuscito a a far vedere tutto il suo talento ma raffa leao sto bivio l'ha superato da un pezzo signori non mi rompete le palle adesso perché rivedo va benissimo che l'allenatore giocatore tutti quanti vadano in questo momento a parlare con leao e dirgli bello mio svegliati che se qua vogliamo passare il turno in champions league se vogliamo far bene il campionato e te ci servi e ti devi svegliare e non puoi permetterti una roba del genere e fanno bene a farlo ma che giornalisti in questo momento mi vengano a dire eh ma leao può essere un niang che cazzo dite ma cosa dite ma l'avete viste le partite ma l'avete viste ma ma sapete che giocatore è leao che questa roba mentale ce l'ha e purtroppo deve crescere io speravo che quest'anno fosse l'anno della consacrazione niente secondo me alleao serve un altro tipo di allenatore probabilmente serve un allenatore che lo faccia crescere un po di più probabilmente pioli non è l'uomo giusto ora non voglio dare le colpe a pioli se leao fa le minchiate però sicuramente leao ve lo ricordate quando ha fatto quello scatto di carriera e quando è arrivato ibraimovic che mentalmente sicuramente gli avrà dato qualcosa perché leao non puoi entrare in campo già scazzato cioè leao nella partita con newcastle dopo dieci minuti già allargava le braccia e sbuffava e questo è un errore questa è una roba grave e con ibraimovic in campo e io non penso che leao lo faccia perché ibraimovic ci rimanda due sguardi dei suoi e leao ritorna di nuovo composto e inizia a correre quindi credo che leao serva qualcuno nello spogliatoio che lo strigli un po e che lo tenga un po sugli attenti però sta roba di metterlo addirittura in discussione tralasciando i tifosi del milan già è un pacco alla prossima offerta vendiamolo non commento neanche ripeto va benissimo essere arrabbiati in quel momento va benissimo criticare la prestazione perché la gente che dice no va bene leao dai va bene non fa niente no quello fa male è come quando un ragazzino non fa i compiti e il genitore lo giustifica diceva bene dai non fa niente no no hai fatto male in quel momento hai sbagliato devi essere rimproverato ma poi basta non si giudica il calciatore raffa leao non può essere messo in discussione uno dei talenti se non il talento più grande che abbiamo nella serie a voglio dire uno dei talenti e che sono poi quelli delle altre squadre dicono ma non abbiamo quello quindi non voglio creare confusione uno dei talenti più grandi che abbiamo in serie a è un top player già poi se deve diventare uno dei migliori al mondo lo dovrà dimostrare ma io sono il primo a fargli il cazzadoni a dirgli guarda che se sta roba qua la vai a fare al manchester city la vai a fare al paris angermen e lì non hanno pietà qui trovi tifosi che magari possono essere arrabbiati quel giorno ma il giorno dopo già sono lì pronti a difenderti ho visto tantissimi milanisti comunque dire leao non si tocca leao non si mette in discussione e sono contentissimo di questo però signori giornalisti veramente imbarazzanti e vergognosi e poi volevo rispondere a una piccola roba che ho letto questa mattina proprio prima di cominciare il video mi sono sfogliato un po le ultime news non c'erano grandissime notizie e ho letto il milan ha clamorosamente sbagliato il mercato per chi ha lasciato giru solo allora che il milan sull'attaccante non si sia comportato benissimo credo non è una roba che ci stupisce no non non è andata bene l'ultimo giorno di mercato la situazione taremi la conoscete mi viene la nausea soltanto a pensarla taremi ci sarebbe servito tantissimo papapapapa a gennaio speriamo che faccia un tentativo magari per però signori ora è vero che c'è questo problema ma tu hai preso luca jovic ok che non sarà un campione non sarà un fenomeno tutto quello che volete voi ma lo volete far fallire nel campo cioè volete far fallire luca jovic con la maglia del milan nel campo e non farlo fallire prima perché se l'hai preso allora te lo devi tenere gli devi dare una possibilità perché questo è un discorso che va riferito più all'allenatore perché quanti giocatori abbiamo visto fallire non nel campo perché lui è fissato con le sue scelte con le sue cose con i suoi cambi al 75esimo e roba varia luca jovic c'è è nella rosa lo devi schierare non inventarti no ma metto quello falso 9 per far riposare giru no deve riposare giru deve giocare luca jovic poi fallirà quando fallirà sul campo quando tutti quanti ci renderemo conto che luca jovic ormai un ex calciatore come dicono a firenze allora lì jovic è stato bello ti abbiamo dato la possibilità non è colpa dell'allenatore arrivederci grazie ciao vai vai ma almeno fatelo provare perché io sono convinto che jovic se gli capita un quell'episodio giusto mentalmente li può cambiare tutto e io sono convinto che lui si stia allenando bene perché l'ultima chance della sua carriera è l'ultimissima gli è arrivata sta botta di culo di arrivare al milan mentre faceva il panchino alla fiorentina non li ricapiterà mai più la prossima squadra sarà una squadra sotto di dieci livelli del milan se non dovesse far bene quindi io chiedo questo se dobbiamo far fallire i giocatori perché già sento e ma ocafor lì era no cafore buono ocafor è buono deve giocare la gente deve ora hanno detto che lui cercherà a mo di fare un po di turnove di che è brutto anche chiamarlo turnove però far riposare un po alcuni giocatori giustissimo col verona farlo e vediamoli in campo sui giocatori basta bocciare i giocatori prima ancora che scendano in campo perché non è possibile devono essere bocciati sul campo questo è un piccolo sassolino che volevo togliermi perché per me l'anno scorso quando è stato bocciato il mercato di maldini per me molti giocatori erano all'altezza e sono stati bocciati per colpa dell'allenatore e non vorrei ricapitarsi la stessa cosa specialmente con gente come ocafor e gente come jovic su ocafor sono convinto che farà bene quindi se non lo fa giocare per me è solo colpa sua e jovic è un grosso punto interrogativo ma vorrei vederlo fallire in campo per quanto riguarda rafale hao chi ha messo in discussione il calciatore si vergogni chi ha criticato la prestazione non poteva fare altro ragazzi sempre forza mina ci vediamo domani con un nuovo video mi raccomando tantissimi like e tantissime iscrizioni bella